ragazzi è la fine di tutto è la fine di tutto è la fine di tutti gli out dopo stasera dopo stasera si è toccato proprio il fondo stasera qui non è solo una questione di allegria questa è una questione di tutti out a partire dai piani alti a finire ammagazzinieri stasera si è toccato il fondo stasera abbiamo toccato il fondo questo è peggio di inter per scevo quando l'inter ha perso col di scevo da stasera siete tutti diventati indifendibili da stasera per me potete andare a fare in culo dal primo all'ultimo perché ci avete toccato la dignità stasera ci avete toccato la dignità stasera da oggi in poi non difenderò più nessuno più nessuno da oggi in poi qualsiasi cosa succede qualsiasi cosa succede e dovete assumere voi le responsabilità ora voglio vedere società juventus se si presenta in conferenza stampa se dirà qualcosa se darà una scorsa se esonerà allegri se lo terrà se dirà qualcosa ma noi vogliamo capire che cazzo sta succedendo a questa squadra di merda perché ad oggi siamo una squadra di merda di merda zero di rimborta con maccabino zero 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 90 minuti zero da stasera per me siete diventati tutti quanti indifendibili ve ne potete andare a fare in culo dal primo all'ultimo perché ricordatevi quello che resta è solo la juventus siete tutti di passaggio ma da oggi io ho finito le parole per tutti non difenderò più nessuno per me ve ne potete andare a fare in culo tutti dal presidente al magazziniere avete finito da oggi lino juventus non difende più nessuno mister mi devi spiegare solo una situazione perché rugani al posto di premer facciamo turnover pensiamo al derby allora se il primo che non ci crede in questa qualificazione e allora certe critiche deve apprendere tu certe critiche le vuoi tu allora se ti piace farti criticare da oggi lino juventus ha finito di difendere le persone che giocano o che lavorano per la juventus se fino adesso ho cercato sempre una spiegazione a tutti oggi ho capito che voi siete i primi che non ve ne frega un cazzo allora per me da domani vi potete tutti quanti dimettere e andarvene tutti a fare in culo e mi auguro che il maccabino in europa lì al posto della juventus perché quei ragazzi giocano con voglia noi siamo una banda di meno ma luce ma la banda di meno male siamo in campo senza tirare in porta facciamo le cose scontate allora io voglio che da gennaio chi se ne vuole andare via comincia a andare via chi vuole rimanere resta e si va a prendere gente con voglia di giocare a pallone soprattutto si va a prendere gente da juve gente da juve ma da oggi lino juventus non difende più nessuno da stasera per me ve ne potete andare a fare in culo tutti dalla testa e i piedi detto questo sempre fino a prima volta guardate la maglietta la finale di cardiff dove io ero presente e quando mi fanno la finale della coppa campione quando mi fanno la finale della coppa campione indegni vergognatevi tutti tutti quando dico tutti e tutti stasera voglio uno di i dirigenti che si va a presentare là a parlare non che mi manda solo a la conferenza stampa voglio gente voglio il presidente voglio sentire agnelli che dice stasera da stasera per me siete tutti quanti indipendenti andare a fare in culo lino juventus ha fatto quello che ha potuto fare da adesso per me siete tutti in una stessa barca di merda per dignità sabato ci abbiamo il verbo se dovete cacciare qualcuno ma a partire da allenatore da oggi non verrà più un cazzo di nessuno cacciate chi cazzo volete e sabato c'è una partire da vincere che è il derby indegni pezzi di merda